Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto low cost davvero interessante, l'evoluzione del SG106, il drone low cost che ho recensito circa un paio di mesi fa, che ho portato appunto qua sul canale, un drone che vola benissimo e che pesa meno di 250 grammi. Questo drone che appunto ho recensito in maniera super positiva, a parte il discorso video, perché davvero i video sono inutilizzabili, perché non avendo un gimbal meccanico, non avendo una stabilizzazione elettronica scarsa, i video sono inutilizzabili, mentre le foto direi che non sono niente male, però il drone vola benissimo e addirittura avevo detto che da pilotare sembrava quasi un DJI mini e il drone che avevo recensito era lui. Oggi invece ragazzi parliamo di lui, la sua evoluzione, l'SG106 Pro. Questo nuovo drone di casa ZLRC che a differenza della versione precedente ha aggiunto un gimbal meccanico, un gimbal meccanico stabilizzato meccanicamente su due assi più una stabilizzazione elettronica che dovrebbe dare appunto dei video più accettabili rispetto alla versione precedente. Però purtroppo in questa versione con gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi, vedete che abbiamo anche il copy gimbal mentre in questa versione non c'era perché ovviamente non aveva un gimbal meccanico, qua invece vedete che abbiamo un gimbal stabilizzato su due assi a livello meccanico, però purtroppo con questa aggiunta del gimbal meccanico il drone non pesa più 249 grammi, ma pesa 273 grammi, quindi abbiamo questi 24 grammi che ragazzi non ce lo fanno rientrare nella categoria dei droni sotto i 250 grammi e questo è davvero davvero un peccato perché comunque è un drone che vola benissimo perché ragazzi davvero lui dal punto di vista del volo è rimasto uguale a lui, poi lo vedremo nel prossimo video in cui ve lo farò vedere in testa di volo ma soprattutto anche il comparto video e foto che è la differenza maggiore che abbiamo con la versione precedente, però purtroppo ragazzi abbiamo questi 24 grammi che ZLRC però poteva trovare il modo di limare in qualche maniera cavoli e farlo rientrare sotto i 249 grammi, se fosse pesato i 249 grammi ragazzi quel drone qua spaccava perché attualmente costa 98 euro, cioè con 98 euro comunque vi portate a casa un drone che è davvero incredibile secondo me per come vola, per la sicurezza di volo, davvero tanta roba. Rispetto alla versione precedente ovviamente oltre al gimbal come abbiamo detto abbiamo anche una nuova novità, abbiamo questo, adesso ve lo faccio vedere bene, lo slot per la micro sd, qua mancava nella versione precedente non c'erano slot per la micro sd ma tutto veniva registrato sullo smartphone, mentre qua è stato aggiunto uno slot per la micro sd, probabilmente anche questo ha influito sull'aumento di peso perché comunque è stata introdotta una nuova scheda che di qua non c'era, quindi gimbal meccanico, scheda di registrazione, tutte queste cose hanno fatto aumentare il peso e questo è davvero un peccato perché poi per il resto il drone, ve lo dico, poi lo vedremo anche nel video che arriverà come test, vola che è uno spettacolo, vola meglio dell'SG908, il suo fratello maggiore che pesa meno di 500 grammi che ho portato qua sul canale, ma questo secondo me vola meglio, sia proprio come volo, come comportamento in hovering, secondo me è addirittura meglio dell'SG908, è più simile all'SG906 se vogliamo, però è fantastico, da utilizzare e infatti avevo detto che sembrava di pilotare il mini, ragazzi, io dei droni DJI li ho pilotati tutti, quindi capisco e sento quando un drone si avvicina al tipo di vol di DJI e questo ragazzi si avvicina tantissimo e non sembra vero perché parliamo di un drone da 98 euro, link in descrizione perché comunque è un prezzaccio, attualmente è in super sconto a questo prezzo. Poi volevo farvi vedere che sotto entrambi hanno l'optical flow, è cambiata la posizione perché qua è stata aggiunta appunto la scheda di registrazione video, quindi l'optical flow è stato spostato in questa posizione, mentre di qua era più avanzato, però il risultato finale non cambia, sta di fatto che volano e hanno un hovering incredibile. Poi il radiocomando, il radiocomando è rimasto identico per tutte e due le versioni, questo radiocomando che secondo me è bellissimo, si accende quando andiamo ad aprirlo, vedete, ha anche le batterie ricaricabili incluse, quindi abbiamo un drone economico, quindi low cost che costa 98 euro con gimbal meccanico stabilizzato su due assi, più la parte elettronica, con anche un radiocomando con le batterie ricaricabili incluse che si caricano da questa micro usb. Il radiocomando è super completo, return to home, decollo e atterraggio automatico, attivazione e disattivazione GPS, registrazione video e foto, movimento del gimbal sempre con i pulsanti, come sapete ZLRC in tutti i suoi droni con il gimbal ha sempre messo questo discorso dei pulsanti e non una rotella, questo non capisco il perché, comunque insistono con sta cosa che sicuramente non è né pratica né ha un risultato finale ottimale, perché ogni volta che schiacciamo è uno scatto del gimbal, quindi non avremo mai un movimento fluido e poi possibilità di regolare la velocità e di rendere il drone anche senza testa, quindi ragazzi è super davvero completo, il radiocomando è identico come vedete a quello della versione precedente. Poi, una cosa che volevo farvi vedere sempre di differenza rispetto a lui, che nella scheda tecnica viene data la batteria da 2200 mAh, infatti lui, la versione precedente, ha le batterie 2S da 2200 mAh e anche nella scheda tecnica di questo viene data la stessa batteria, ma se noi andiamo a estrarla e andiamo a guardare l'etichetta, adesso non so se riuscite a vederla, sono sempre 2S ma sono da 3000 mAh, quindi c'è stato un aumento della batteria, allora mi son detto ma proviamo a pesare le due batterie e vedere quanta differenza di peso c'è, ma c'è solo qualche grammo di differenza, quindi anche andando ad invertire le batterie non arriviamo sotto ai 250 grammi, quindi non serve a niente cambiare la batteria, poi per il resto la confezione ragazzi è identica, stessa valigetta, vedete, uguale per entrambi, quindi in questo prezzo di 88 euro e in questa versione da 98 euro con il gimbal meccanico abbiamo la stessa valigetta, gli stessi accessori, soliti libretti con tutte le istruzioni come c'è sempre ormai abituato ZLRC, quindi abbiamo tutti i libretti con le istruzioni in tutte le lingue, quindi questa cosa che come vi dico in ogni video della ZLRC mi piace un sacco, perché ogni libretto una lingua e un'istruzione dedicata appunto alla lingua di quel libretto ed è sicuramente una cosa molto molto utile, anche perché poi c'è sempre anche l'italiano e non è una cosa da sottovalutare nei droni low cost perché spesso e volentieri c'è solo il cinese e l'inglese, poi abbiamo le eliche di ricambio, un cavetto micro usb per ricaricare le batterie del drone, qua dietro come per la versione precedente e per ricaricare anche il controller, adesso questi qua li metto via dopo perché sennò sto qua a mezz'ora metterli via, allora una cosa che volevo farvi vedere è che qua c'è scritto HDR, poi non so, non penso che faccia l'HDR, penso che l'abbiano scritto giusto per creare una caratteristica in più che stava bene sul braccio del drone probabilmente, perché non penso che abbia l'HDR e parliamo di quello che è la risoluzione video, registra video in 2,7k a 25 fps e staremo a vedere come sono appunto dal punto di vista e vedremo come sono dal punto di vista della stabilizzazione, i minuti di volo sono dichiarati sempre 25 minuti come per la versione precedente, poi ragazzi 25 non sono veri, saremo intorno ai 20 e poi il range, il range è lo stesso per entrambi, viene dato addirittura un range di 800 metri per il ritorno video ma scordatevelo, perché comunque questo drone trasmette il ritorno video sul wifi a 5 GHz, mentre per quanto riguarda il controller, quindi quello che è il segnale del drone dal punto di vista dei comandi del controller, parliamo di una trasmissione wifi a 2,4 GHz, quindi 2,4 per quanto riguarda il controller e 5,8 GHz per quanto riguarda il ritorno video del wifi, ragazzi non c'entra niente con il 5 G della telefonia, è il wifi, e ragazzi qualsiasi telefono ha il wifi a 5 GHz, a meno che non sia un telefono di dieci anni fa, e una cosa che volevo farvi vedere che mi è piaciuto un sacco è questa, mentre di qua avevamo questa fascia nera ma non faceva niente, di qua invece vedete che la fascia è diventata bianca perché si illumina e guardate che bello che è, l'avevo già fatto vedere anche in una story di Instagram, appunto perché lì porto tante novità o spoiler prima che su YouTube, quindi nel caso seguitemi su Instagram perché magari arrivano già degli spoiler riguardanti la stabilizzazione video o come vola, quindi seguitemi su Instagram dove porto sicuramente delle anteprime riguardanti lui e tanto tanto altro, e vedete, guardate che bello, sembra kit, la macchina del telefilm di supercar, bellissima questa cosa, e abbiamo anche i led qua dietro, anche questi molto utili e interessanti, che comunque sono i led che ci fanno capire cosa sta facendo il drone quando se il radiocomando è connesso, quando facciamo la calibrazione della bussola, quando facciamo la calibrazione dell'accelerometro, quindi tutte queste cose che se lo facciamo con l'applicazione ok ci viene comunque scritto nell'applicazione quello che sta succedendo, se invece utilizziamo solo il controller per fare tutto questo dovremmo guardare i led, perché comunque questo drone è pilotabile anche solo con il controller, non è per forza necessario utilizzare uno smartphone, se doveste utilizzare uno smartphone ricordatevi che l'applicazione per questi due droni è HFAN PRO, questa applicazione che è dedicata a loro due, ma anche ad altri droni della ZLRC, perché invece ultimamente gli ultimi droni che sono arrivati dalla ZLRC si utilizzano con l'applicazione XL PRO, poi alla fine sono uguali identiche, perché quello che è l'interfaccia grafica è la stessa, quindi non so cosa cambi, non so perché per alcuni consigliano una anziché l'altra, non lo so perché alla fine sono identiche, vabbè comunque tolto questo discorso utilizzate quella che vi viene consigliato dal libretto di istruzione, c'è il QR code, lo inquadrate col telefono e vi manda direttamente al link di iOS o di Play Store. Quindi ragazzi questo era solo il primo video in cui volevo spiegarvi cosa ha questo drone rispetto a questo come diciamo novità, ma cosa purtroppo anche di negativo, la cosa che potrebbe essere la più interessante di tutti, ma purtroppo non ce l'ha, il discorso peso, cioè che pesa più di 249 grammi, che pesa 273 grammi, rimane sotto i 300 grammi ma non scende sotto i 250 grammi, però ha tante cose migliorate rispetto a questo e la differenza di prezzo attualmente è di 10 euro, perché questo è in super sconto, link in descrizione, perché è in offerta attualmente non so per quanto a 98 euro e ragazzi, poi lo vedremo nel video prossimamente quando faremo il videotest e ragazzi vola che... poi lo vedremo nel videotest e ma vi assicuro che vola che è una meraviglia. Quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questa anteprima vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, spoiler di questo drone, anteprime di quello che farà questo drone e tanto altro, voli in FPV, stampe 3D, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Trecomofferte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube e non perdevi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!